Dopo due anni di sospensione a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, quest'anno torna la tradizionale festa in occasione dell'annuale fondazione dell'arma dei carabinieri. Nel piazzale della caserma Gerolamo Berlinguer, sede del comando provinciale, un reparto di formazione di armi ha dato vita a una sobria cerimonia militare durante la quale si sono ricordati in forma solenne i caduti ed è stata data lettura dei messaggi che il presidente della repubblica e il comando generale dell'arma hanno inviato per l'occasione. A seguire, il comandante provinciale, il colonnello Dioniso De Masi, ha rivolto agli ospiti i suoi saluti ringraziando le autorità civili, militari e religiose, non solo per la loro presenza odierna ma per la vicinanza e la collaborazione ricevuta nell'ultimo anno da parte di tutte le istituzioni provinciali. Il comandante De Masi ha illustrato l'attività d'istituto compiuta dal maggio 2022 ad oggi evidenziando come l'arma sassarese con i suoi 50.000 servizi esterni di oltre 350 arresti, le 3.900 denunce in stato di libertà e le oltre 160.000 persone controllate, compie più del 70% dell'interattività operativa delle forze dell'ordine in provincia, con un'attenzione particolare al contrasto dei reati ambientali attraverso le componenti specialistiche rappresentate dal nucleo operativo ecologico e i carabinieri forestali. L'accento è stato posto anche sui 26 carabinieri feriti in servizio ogni ultimi 12 mesi a testimonianza dell'impegno spinto fino al sacrificio personale degli uomini e delle donne dell'arma. Infine a 34 militari distintisi in operazioni di servizio sono stati tributati encomi solenni e semplici consegnati loro dalle autorità presenti accompagnate dal colonnello De Masi.